Siamo qui con Vescero e Tadarigo, i due protagonisti quasi da parte di quest'ultima finale delle Champions, i The Last Dance. Raccontaci un po' la partita, com'è andata? È stato un po'... all'inizio siamo partiti, soltanto che dopo ho già iniziato un po' a capire, iniziarono ad attaccare, iniziarono ad attaccare, ci hanno fatto un po' di gol, che purtroppo uno con deviazione ha fatto una mezza pavra, è entrata purtroppo. Però sono contento che ho partito di corre alla fine. Bene bene, è stata tosta, però alla fine eravamo sicuri di portarla a casa. Abbiamo fatto un'esperienza assurda, per me che faccio questo torneo da sei anni, perso due finali, perso semifinali, ho perso qualsiasi cosa in questi tornei durante gli anni, insieme ai più vecchi, grazie ai nuovi e grazie a quelli che non ci sono più, The Last Dance, The Last Dance. Saluto a Marino! Saluto a Camerano Marino! Avevamo un debito con questo torneo e finalmente l'abbiamo portato a casa. Hanno chiamato il tipo e l'abbiamo vinto. Alla fine abbiamo avuto bisogno del divino, siamo buttati sul divino. Una rivincita personale, una rivincita della squadra. Vi risponiamo che... Va bene, vi ringrazio e ancora auguri per la vittoria.